aria qua tanto morbido che l'albereola no beh non lo so non sono ancora non so no ok giustamente che dire in 3 vabbè in 2 e 1 let's go il giorno più bello è mia vita ragazzi posso morire adesso nemo la pianta bella mec ottima ah che botta non proprio tranquilla no 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 però la senti è via bella raga partiamo a bombazza come solito oggi red bull metteremo manche vada il video di eh abbiamo un rapporto sbagliato gli vuoi farmi partire subito in pompa insomma oggi va così un po' scassatina il polsini davanti qua la saltiamo oh 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 non so come grazie porca puttana se pira sulle gambe occhio fermi io e altri due questi sono gli incontri del certo tipo nel senso che erano tre persone e arriviamo al benissimo pianoretto guardate che visuale signori intanto per gli appassionati dietro abbiamo il bursacchiotto e davanti abbiamo il polsini possiamo messi i possini buona aia questo è un puntino un po' di merda che però si fa no problem il manual attenzione te lo ricordi il bivio adesso si è subito di qua ottima cosa va a saltarmi bella bella come si salta qua signori via col drop bella tranquilla noi la saltiamo un po' cortina ma vabbè questo lo chiudiamo non so cosa ho oggi comunque ho male un po' ai polsini devo dire sei diventato pols po' che? pols pols diminutivo di polsini io pols io pols ecco pols go 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 pols aha via via c'è un bivio adesso quello di Priva stanno edrio a cano e via stanno edrio a cano e via stanno edrio a cano e via ci sei Mac? ottima e let's go di nuovo Manuel intanto a non finire Manuel in salita pedalando alla muscolare e non appeso oggi il signor brussacchiotto qua la lancia a modi che puttana occhio Mac le piante qua che puttana qua sinistra sinistra sicuro? io me lo ricordo di la però vabbè ah si si è giusta di qua ah si si è giusta di qua ok il no spresso signori il manual il saltino il manual inizia ma non ma non ma salutiamo John che è uno di questi punti non mi ricordo precisamente quale si è fatto un bel direi spettacolare e anche questa ragazzi l'abbiamo fatta grazie